Due appartamenti, quattro locali commerciali e un terreno edificabile, tutti nel comune di Portempedocle, per un valore complessivo di circa 500.000 euro, sequestrati ad Alfonso Zambito. Gli agenti della sezione anticrimine della questura di Agrigento guidati da Angela Spatola hanno applicato il provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento su richiesta del questore Maurizio Auriemma. Alfonso Zambito è stato coinvolto nell'operazione Isimonei, scattata nel 2010 grazie alle dichiarazioni dell'ex sindaco di Portempedocle Paolo Ferrara, caduto nella rete degli usurai per svariate migliaia di euro. Nel 2010 furono otto le persone arrestate, tra cui proprio Alfonso Zambito, tutte accusate del reato di usura. Ad aggravare la posizione di Zambito anche un'altra condanna subita nel 2004, rendono noto dalla questura di Agrigento per i reati di associazione per delinquere e usura a seguito dell'operazione denominata Anaconda, condotta dai militari dell'arma di Portempedocle. Sono stati sottoposti a sequestro due appartamenti, quattro locali commerciali e un terreno edificabile. Il valore è approssimativo dei beni che rientrano nel provvedimento di sequestro di circa 500.000 euro.